Molto spesso i miei gol non hanno portato dei punti importanti, però dobbiamo continuare ad andare avanti, anche se oggi una vittoria sarebbe stata l'ideale, guardando anche gli altri risultati. Purtroppo con l'espulsione non ci ha dato quella forza nei minuti finali di andarci a prendere la vittoria. Adesso guardiamo avanti e cerchiamo di fare risultato la prossima partita. Sì, qualche palla colunque l'abbiamo creata, soprattutto con De Grazia, lo stesso Milillo, ci è mancato solo il gol. Purtroppo loro sono stati bravi nel palleggio, noi cercavamo di ripartire in ripartenza, ci è mancato solo il gol all'inizio. Ma sapevamo che la vittoria era importante oggi, però comunque importante non l'abbiamo perso, quindi ci dà una carica in più nell'affrontare la prossima partita. Sì, sappiamo tutti che il giocatore è e l'importanza che ha in questa società e nel gruppo. Purtroppo è stato un errore e niente, dobbiamo pensare solo ad andare avanti. Ma io credo che comunque è stata anche Bravura del Renate che aveva sempre un po' il palleggio del gioco. Quindi noi cercavamo di ripartire in contropiede. Purtroppo non ho avuto molti palloni giocabili, però comunque le occasioni le abbiamo avute lo stesso con altri giocatori. Grazie. Grazie.